Sono una festicciola, c'è un bambino che mangia un panino con una fetta di prosciutto, è tagliata troppo grande, gli va di traverso, mi accorgo subito, metto le mani intorno al collo, blu in volto, aiuto, aiuto, c'è un bambino che sta male, allarme generico, lo prendo per la mandibola, lo posiziono a testa in giù sul mio ginocchio, piano dei grivi, quindi c'è tutta la posizione che dicevano che il bambino, però non si prende quei piedi, ma si appoggia in questa maniera, lo tengo per la mandibola, 5 colpi, 1, 2, 3, 4 e 5. Di solito al quarto colpo qualunque colpo estraneo esce fuori, se ciò non dovesse accadere continua con le manovre di sostruzione, manovra di Heimlich, 2, 3, 4 e 5, alterno questo a 5 colpi inter scavolari con via di fuga laterale verso l'esterno e proseguo in questa maniera. E' stato scientificamente provato che già le prime tre colpi inter scavolari dati con una certa energia riescono a far fuoriuscire qualunque corpo estraneo e quindi non c'è bisogno di passare al protocollo operativo del bambino inconsciente che ovviamente poi arriva dentro l'area di rianimazione cardiopolmonare pediatrica anche per l'ACI, quindi una maestra, un insegnante, chiunque può imparare a salvare un bambino.